Un buongiorno agli amici di Anto.it, un buongiorno all'amico Pasquale Minuti, tecnico dell'Atletico Azzuracolli, formazione che sta onorando questo campionato di promozione e praticamente l'abbiamo invitato anche perché noi abbiamo promesso agli amici di fare un po' il punto ogni mese circa, anche perché è giusto che noi leggiamo sempre dai quotidiani, sentiamo anche dalle varie emittenti quello che succede, però è giusto avere Pasquale i nostri studi, anche perché a caldo ci dirà come stanno le cose. Reduce da questo pari interno col Montecosaro, però il campionato forse è più difficile del previsto Pasqualino? Innanzitutto buongiorno a tutti, è un campionato diverso dall'anno scorso dove siamo stati protagonisti dall'inizio alla fine. Quest'anno le categorie ci sono perché i valori sono più alti e quindi abbiamo avuto una serie di episodi negativi a incominciare con un mio giocatore Moreno, un centrocambista che a prima partita di Coppa Italia si è fatto un crociato che è un giocatore che a noi manca tantissimo, poi ci sono stati vari infortuni, però l'impatto con la categoria è stato duro. Ecco, vedo che la Sangiustese, almeno da quelli che sono i risultati, ha qualcosa in più. C'è anche l'altra Picena, l'atletico Piceno dell'amico Peppina Maddio, che insomma anche lui sta facendo bene, però è un campionato che forse va al di là della categoria, ci sono squadre ben attrezzate che potrebbero fare anche forse più di questo campionato. Ma sicuramente è molto più combattuto, equilibrato e tosto dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'erano tre squadre che erano, diciamo, tre squadre materasso, quest'anno non ci sono, anche le ultime possono battere le prime, eccetto magari la Sangiustese che ha un organico completamente al di fuori di questa categoria. Per il resto sono tutte squadre attrezzate, compatte, toste, dove si lotta su ogni pallone e regna l'equilibrio comunque, perché nel giro di 3-4 squadre, noi adesso attualmente c'è una posizione nei play-out, però con una serie di risultati positivi ci possiamo tirar fuori dalla situazione. Sì, perché stai a diretto contatto del centro classifica, due o tre punti, quindi basta due risultati consecutivi Noi abbiamo perso dei punti clamorosi, con delle disattenzioni su palli inattivi, anche domenica abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo, dove ha segnato D'Angelo che è, diciamo, posso dire, non alto ma basso come me, quindi... Ci sono errori difensivi... Anche una partita, quel chiesa no, vincevamo 2-0, 2-2, molte volte siamo andati in vantaggio, siamo fatti raggiungere, dobbiamo crescere sotto questo aspetto qua. Ecco, dicevi degli infortuni Pasqualino, visto che adesso ci sta il mercato di riparazione, cercherai di chiedere alla società qualche eventuale rinforzo per stare tranquillo, oppure aspetti mano a mano che qualcuno rientri per poter avere tutte le espressioni? Ma, sinceramente, non abbiamo ancora affrontato questo discorso perché manca ancora una partita, diciamo, quindi non mi va di... Devo pensare a questa partita qui, poi non so come si svolgerà all'evolversi di questo calcio mercato, di questo mercato. Ecco, domenica, prossima, andrei a Montefano contro una neopromossa, se non erro, che giustamente anche lei sta facendo un campionato abbastanza dignitoso. Cioè, tu mi dicevi giustamente che spesso, se ti ritrovi così, molto agli errori difensivi, quindi devi lavorare anche sotto l'aspetto, diciamo, mentale. Ma non è... la situazione è quella che è perché non è solo la difesa, capito? La difesa deve essere supportata dal centrocampo, il centrocampo, gli attaccanti che... Però in determinate situazioni c'è mancata quella concentrazione perché prendendo molti gol su o rigori o punizioni laterali o corner, lì ci vuole un po' più di concentrazione, dovremmo lavorare sotto questo aspetto perché secondo me la squadra gioca, è viva, crea. Segniamo più dell'anno scorso, però rispetto all'anno scorso subiamo più reti. Senti Pasqualino, diciamo della San Giustese che è un organico superlativo. Ci sono altre squadre perché ha un vantaggio di 4-5 punti sulle dirette inseguitrici. Ci sono squadre che potrebbero darle fastidio o pensi che la San Giustese faccia un campionato a sé fino alla fine? Ma secondo me vedendo la classifica io penso che la San Giustese farà un campionato a sé perché organicamente è la squadra più quotata, più compatta, ha dei nomi che con questa categoria non c'entrano niente, quindi poi è partita bene, quindi quando parti bene l'organico è forte, quindi prendi anche più consapevolezza dei propri mezzi, e quindi secondo me sarà la San Giustese una corazzata che secondo me non ha problemi. Ecco, vedendo un po' i risultati di questa ultima giornata, questa undicesima, diciamo come dici tu tanto equilibrio perché una sola vittoria esterna del Muccia in Casalorese, poi tanti pareggi e tutte vittorie insomma 1-0. Cioè non ci sono squadre, anche la stessa San Giustese che ha battuto l'ultima in classifica 1-0, quindi faticando anche perché questo è un po' uno scontro da Monte San Giusto e Porta Antepidio che regna da anni. Ma questa, come dicevo prima, è una caratteristica di questo campionato dove c'è molto equilibrio, vincere 2-3 a 0 è difficile perché ci sono difese arcini e si chiudono bene, però ci sono anche molti attaccanti forti. Pasqualino, giustamente adesso saprai con la tua esperienza, anche perché hai sposato questo progetto, con la vittoria dello scorso anno, vorrei fare un campionato giustamente togliendoti il prima possibile da queste impasse. Ti faccio una domanda da ex rosso-blu come calciatore e anche tecnico, conseguentemente segui la SAM perché sei di San Benedetto. Questo vantaggio dopo l'avvento di Paladini in panchina, 5 partite, 5 vittorie, più 9 sull'eterno, pensi che possa fare come la Sam Giustese questa SAM oppure pensi che Fano, Campobasso, qualche squadra potrebbe rientrare? Ma secondo me la Sam Giustese con questo bottino può solo perdere il campionato perché 9 punti, poi non vedo un'inseguitrice agguerrita perché a me piace molto il Matelica, che ha dei ottimi giocatori, l'ho vista giocare anche a San Benedetto, ha perso dei punti incredibili dove vinceva 2-0, ha perso a Giulianova, anche domenica ha perso in casa. Anche il Fano stesso non è la squadra dell'anno scorso, quindi il Campobasso è partito male e difficilmente rientrerà anche con l'avvento del mio amico Favo. Sì esatto, cambioteca a Pellacci. San Nicolò non è una squadra che può competere con la Samettese. Non ha tanti ricambi. No, ma la Samettese è forte, poi con l'avvento di Palladini ha ancora più solidità difensiva perché l'attacco ha sempre funzionato, quindi secondo me può solo perdere a questo punto. Anche perché come dicevi tu, con 5 partite Palladini ha fatto 11 reti, ne ha subito una sola, poi tra l'altro sul rigore ha scoppito con la Mternina. Dopo l'avvento di Moneti, Fedeli, una persona che ambiva di arrivare a Samettese per fatto bene a Rieti, tu pensi che potremmo rivivere gli anni di Caucci, 4-5 anni di tranquillità, per tornare nei campionati dove questa piazza sai che è sempre stata? Ma ce lo auguriamo, anche perché gli ultimi periodi non è che sono stati brillanti, addirittura vincendo un campionato, invece di andare nei professionisti, siamo ritornati indietro del campionato che abbiamo vinto, quindi speriamo di aver trovato la persona giusta per San Benedetto. Pasqualino, io ti ringrazio come sempre per il punto che abbiamo fatto sulla promozione, sperando di ritrovarti qui anche con qualche tuo giocatore oppure qualche addetto della società, anche per parlare perché eventualmente prima di Natale rifaremo qualcosa, anche perché dopo ci sarà la sosta a Natalezza, ci riprenderà a Gennaio, ma già saprai anche se la società vorrà fare qualcosa per darti un po' più di concretezza, per farti stare tranquillo. Ma noi abbiamo un budget limitatissimo, parlando con Giovanni, hai detto che è quello più basso di tutta la categoria, quindi per comprare secondo me dovrebbe andare via qualcuno, penso, ma è una battuta. L'importante è che ti rientri qualche infortunato per poter avere almeno l'organico che tu conosci e hai preparato bene. No, vabbè, adesso anche domenica sono rientrati due ottimi calciatori, Chiappini e Valentini, un centrocampista, un difensore, dove si è visto il loro rapporto sia tecnico che caratteriale. Ecco, ti faccio l'ultima domanda. Hai dei giovani che giustamente stai prendendo in considerazione da mettere anche eventualmente in prima squadra, oppure li lasci maturare bene? Ma noi abbiamo un figlio d'arte, Alesi, che gioca nella Junior's, dove io l'ho fatto esordire già anche una partita titolare. Più del bomber Alesi? Sì. Infatti gli ho detto, guarda, se gli assomigli un quarto delle caratteristiche da bomber di tuo pare, farai carriera. Anche domenica ha fatto tre gol nella Junior's. Quanti anni ha? È del 98, quindi già l'ho fatto esordire. Già ho fatto due presenze, ha delle doti che mi piacciono e secondo me ci sarà spazio per lui. Anche perché mi ricordo ai tempi che seguivo l'Azzurra Colli di Federici, ti ricordo, vent'anni fa, il padre era l'attaccante, mi ricordo che faceva partita da sé, segnava tutte le parti, punizioni. Grande Alesi. Pasqualino, grazie per la visita, in bocca al lupo, sperando di ritrovarti in una posizione, diciamo, un po' più tranquilla, che ti fa lavorare meglio. Ma io sono convinto che ci tireremo fuori perché il gruppo dell'anno scorso mi segue e poi non possiamo rimangiarci tutto il lavoro fatto dell'anno scorso. Ottimo lavoro. In bocca al lupo, Pasqualino. Grazie, Grazie a te.